Quanto costa vedere 19 ore al giorno di sport, più di 2000 ore di diretta all'anno, seguire in esclusiva tennis, box, moto mondiale, calcio internazionale, pallavolo, sport americani? Costa solo 1200 lire al giorno, l'abbonamento a Telepiù e ricevi a casa lo sport di Telepiù 2 e 24 ore di cinema su Telepiù 1. Abbonati nei negozi di tv e hi-fi che spongono il nostro marchio o telefonando allo 02 70 13.